Seconda corsa è una prova per tre anni, non vincitori di 16.000 euro nella carriera, sono in otto al via, uno Kerr, Def, Andrea Farolfi, due Contento, Gio, Mattia Ricci, tre Cracopi, Lorenzo Baldi, quattro Caiman, Cesare Ferranti, cinque Chris Di Cavallina, Enrico Bellei, sei Call Play Call, Roberto Vecchione, sette Campari Jet, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, otto Creso, Risaia, TRGF, Francesco Facci. Allenamento completato, si ritrae dall'ala Chris Di Cavallina, problemi in seconda fila per Campari Jet, e si parte con lotta per il comando, è veloce e contento Gio che cerca di scavalcare Curd F, la quale ovviamente non ha intenzione di mandare via l'allevo di Mattia Ricci, poi ancora Cracopi in terza posizione a precedere Caiman, quindi Chris Di Cavallina e all'esterno Call Play Call, 14,2 per il lancio di Curd F che ha mantenuto il comando, sposta a largo Caiman in anticipo su Call Play Call, si muove però anche Cracopi che sposta a largo dopo i 400 passati in 29,6, avanza allo scoperto Lorenzo Baldi, contento Gio secondo alla corda, in Pariglia Caiman, Chris Di Cavallina lungo la corda, Call Play Call a fare la terza pariglia a largo, nonostante qualche problemino Roberto Vecchione lo deve tenere di trotto con le mani. 45,4 per i primi 600 metri, Curd F in vantaggio, Cracopi a largo, lungo i birilli, contento Gio in Pariglia Caiman, quindi ancora Chris Di Cavallina e Call Play Call, lo schema che non varia un minuto per i primi 800 metri di Curd F che continua ad allungare, mette in leggera difficoltà Cracopi che cerca di riorganizzarsi alla fine della curva, 1,15,1 il primo chilometro, Curd F in vantaggio, Cracopi che rinnova le offensive che sono decisamente più vigorose sulle dritte, si muove anche Cold Play Call che si è messo sulle gambe, viene via in terza ruota, 400 dalla conclusione, 1,29,9, tre quarti di miglio, Cracopi che attacca Curd F, poi Caiman che si muove in anticipo su Cold Play Call che sbaglia per un attimo, insiste Cracopi all'attacco di Curd F, Caiman in mezzo alla pista, è passato Cracopi all'ingresso della dirittura d'arrivo, attacca a largo Caiman che va su Cracopi il quale ha speso i massimi, Caiman poi ancora Cold Play Call e Chris Di Cavallina, è passato Caiman, arriva Cold Play Call a centropista, sul palo, Caiman che si salva da Cold Play Call, mentre per il terzo posto forse ancora Cracopi nei confronti di Chris Di Cavallina, mai da rivedere, 1,15, raguaglio cronometrico ancora una volta, Cesare Ferranti, Massimo Compagno e Mauro Prospero, due su due alle prime due dall'arcoveggio per il successo del figlio di Ganymed che porta a casa la vittoria seguendo passo passo Cracopi e vedendola dominare nel finale, mentre finisce molto forte alla fine Cold Play Call che ha fatto un po' di fatica a impegnarsi nel primo giro, poi è buon secondo, al terzo ancora Cracopi, 4-6-3, l'ordine arrivo della seconda dall'arcoveggio. Grazie 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 Grazie